Buongiorno e buona domenica e buon derby a tutti. Come sempre capita, intanto oggi abbiamo tante cose da dire, come sempre capita, anche ultimamente, dopo averne persi sei di fila, mi sveglio con l'idea che il Milan possa vincere il derby. Mi appiglio a tutte quelle cose, tipo quando una squadra arriva tanto sfavorita, poi vince la partita, quando ci sono gli altri che sono tanto sicuri di vincere, poi alla fine la perdono. Insomma, sto cercando di aggrapparmi a qualsiasi cosa per arrivare a questa sera con la voglia di vedere la partita e questo ce l'avrò naturalmente anche perché poi ve la racconterò in diretta, quindi ci vedremo questa sera come sempre alle 20.35 per appunto il racconto di Inter Milan. Ma ho bisogno di questa cosa, non posso partire già sconfitto, so che sarà molto difficile, so che sarà, non dico impossibile perché poi il calcio è strano Beppe, ma so che sarà, insomma, sarà una partita molto complessa. Ci sono novità di formazione che arrivano da Milanello, che sono arrivate ieri, come sempre da noi la formazione esce con ampio anticipo, con largo anticipo. Prima però, permettetemi due considerazioni, la prima è su quello che doveva essere il nostro allenatore, quindi parliamo di quello che non c'è, parliamo di chi non c'è, poi parliamo di chi c'è. Chi non c'è è Lopeteghi, che col West Ham ha scritto una delle pagine più nere della storia del club londinese perché ha perso le prime tre partite in casa di campionato, ieri ha perso malamente con il Chelsea e non era mai successo nella storia degli Ammers. Quindi ancora complimenti ai nostri dirigenti perché la prima scelta era ottima. Sulla seconda vediamo questa sera che cosa succede. Fulvio Collovati, intervistato a Il Giorno sul derby di Milano, dice Il derby, la domanda è, il derby può spingere Milano a una reazione? Se non lo fai in una gara come questa, non lo fai più. Ecco, questo mi sembra piuttosto chiaro. Poi dice anche, dovessero perdere, perderebbero l'allenatore, posto che secondo me ci stanno già pensando da qualche giorno e che non è lui il primo colpevole. Il mercato non l'ha fatto lui, ma di questo abbiamo già parlato. Quindi non torniamo sulle cose già dette. Andiamo invece a parlare di conferenza stampa e di cosa ha detto Fonseca. Partiamo da qui per cercare di raccontare il derby di questa sera e per cercare di raccontare anche quelle che possono essere le novità di formazione perché si parla di un 4-4-2. Poi lo andiamo ad analizzare. Allora, che cosa ha detto Fonseca? Devo ingrandire perché non ci vedo più. Ogni partita abbiamo una strategia diversa. L'Inter è molto forte. Abbiamo preparato la partita in funzione dell'avversario. Quindi questa sera vedremo un Milan che giocherà in funzione dell'Inter. Quindi siccome l'Inter ci ha sempre affettati col centrocampo a 3, giustamente noi questa sera andiamo col centrocampo a 2. Ma vabbè. Ma noi giochiamo sempre per avere la palla e dominare. E torna questo concetto, torna prepotentemente questo concetto, torna in maniera talmente forte che ieri ho letto un messaggio sui social, non mi ricordo dove, ma che sinceramente mi ha quasi trovato d'accordo. Cioè, da Pioli a Fonseca sembra quasi che qualcuno scriva i testi delle conferenze stampa. Cioè, è una cosa incredibile. Ascoltiamo sempre le stesse cose. Le abbiamo sentite tutto l'anno con Pioli e adesso la sentiamo anche con Fonseca. che poi ad un certo punto ha detto anche che sarebbe meglio segnare un gol in più di loro, basta vincere con un gol in più di loro, una roba del genere. Vabbè, comunque, dice Fonseca, vogliamo difendere bene, abbiamo fatto progressi, abbiamo preparato la squadra con normalità in funzione dell'avversario. Dall'altra parte, poi curioso come Simone Inzaghi, in conferenza stampa, abbia detto più di pensare a come troverò il Milan, penserò a quello che dovremmo fare noi, a una grandissima gara di corsa e di attenzione. Poi Fonseca torna su un altro argomento piuttosto inflazionato, ovvero quello di mamma mia, mamma mia, come lavoriamo bene durante la settimana e poi perché non ci riesce quello che facciamo durante la settimana nella partita. Dice, quando sentiamo che i giocatori sono tristi, ma vi avrei fatto vedere la settimana di lavoro per farvi vedere come lavoriamo. Sono stati tre giorni di lavoro fantastici. Ecco, io vedo la partita con fiducia, dice Fonseca, perché i giocatori hanno lavorato così. Questa è la verità. Ora, ovviamente, questa sera intorno alle 22.50, quando ci sarà il mio postpartita, spero di venire a dirvi, finalmente viene smentita la regola che quando si vedono bene i giocatori in settimana, poi si fa una pessima partita. Speriamo che questa sera ci si possa raccontare questa cosa, cioè il fatto che il Milan abbia effettivamente fatto una settimana di allenamenti importanti e poi abbia trovato riscontro sul campo. Contro la Lazio, dice Fonseca, abbiamo difeso meglio perché abbiamo avuto la palla e quando abbiamo la palla non difendiamo e questa è la differenza. Dobbiamo avere la palla. Dobbiamo recuperarla anche velocemente, a momenti noi siamo obbligati a essere bassi e difendere. Quello che mi è piaciuto è che per 20 minuti abbiamo la squadra corta, con le Hauken difendeva, parla della partita con il Liverpool. Quando abbiamo bisogno dobbiamo difendere così, noi non dobbiamo perdere la palla con facilità. E poi il meraviglioso angolo da libro cuore dove gli domandano, dove diciamo, lui domanda se si sente più un leone o un gattino e lui dice sempre un leone, sempre. Una domanda della quale sentivamo assolutamente bisogno, sentivamo bisogno di questa cosa, di sentire Fonseca rifarsi alle bagianate di Ibrahimovic. Vabbè, detto questo, detto questo. Fatto salvo che da questa conferenza abbiamo estrapolato quelle pochissime cose interessanti, perché poi ha parlato anche dei social, dei capelli, della moglie, non ha capito neanche bene quella storia. Lì trovate comunque, se vi fa piacere, la conferenza stampa qui nel mio canale. Insomma, come arriviamo a questo derby? Allora, come trovare esercizio mentale? Domenica, bella giornata, come trovare la forza di battere l'Inter? Adesso, al di là di quelle che sono, diciamo, di quelle che sono le situazioni del, che diciamo all'inizio, cioè la speranza che chi arriva sfavorito possa, che il Milan possa trovare una grande reazione questa sera, che eccetera, 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 noi dobbiamo attenerci a quello che è il campo. Quindi, dobbiamo partire con una speranza. La speranza è che l'Inter arrivi in una condizione fisica un po' più precaria rispetto agli ultimi sei derby, dove ci hanno spazzati via anche da un punto di vista fisico, oltre che da un punto di vista tattico e tecnico e mentale. E quindi dobbiamo sperare che questa sera davvero loro arrivino con la certezza di aver già vinto. Perché io noto un po' questa cosa, ora non so se sia vera o se la sto elaborando io nella mia testa, voglio notarla, voglio notare una certa, come dire, poca anche sensibilità rispetto alla gara di questa sera. Se c'era un tifoso del Milan lo posso capire, cioè posso capire se un tifoso del Milan questa sera, piuttosto che stare davanti alla tv o seguire me, va a mangiarsi una pizza. Lo posso capire, purtroppo il lavoro di distruzione della passione da parte di Cardinale e dei suoi procede alla grande. Però, ecco, questo è un appiglio, questa è una speranza, che magari loro sottovalutino un po' l'impegno, che magari Milan riesca a trovare delle contromisure per, ad esempio, arginare il centrocampo. E qual è la cosa migliore per affrontare un centrocampo a tre? Giocare con un centrocampo a due. Naturalmente la mia è una bugia, non è vero, quindi non so che cosa abbia mente Fonseca. Quello che sappiamo è che le indiscrezioni di formazione parlano di un Milan che gioca col 4-4-2. Quindi, dopo aver passato settimane a raccontare che il Milan può giocare solo col 4-2-3-1, ad andare in confusione sul ruolo dei trequartista, ad andare in confusione sul ruolo dei due mediani, ad avere difficoltà a supportare tutto quel reparto offensivo che per natura e per attitudine poco aiuta in copertura e con un centrocampo che fa fatica a fare filtro, noi ci presentiamo di fatto con un 4-2-4. Perché il Milan dovrebbe giocare con Mignan in porta, che recupera, Emerson, che gioca sicuramente perché Calabria si è fatto male, Teo Hernandez a sinistra e poi Gabbia e Tomori. Quindi bocciato Pavlovich. Ora, è chiaro che si dice che se è giocato martedì può essere che sia rotazione turn over. La sensazione è che Fonseca voglia avere intanto una miglior gestione del pallone in uscita, perché Gabbia è un pelino meglio con i piedi sia di Tomori che di Pavlovich, e poi probabilmente ha paura che l'irruenza non ancora controllata del nostro difensore possa rivelarsi fatale con attaccanti esperti e forti come Lautaro Martinez, come Turam, ma anche come Taremi. Questa è una chiave di lettura nella scelta di Gabbia e nella bocciatura di Pavlovich in questa sfida. Poi, a centrocampo, Fofanà e Reinders. Ma, accidenti, ma Fonseca ci aveva detto l'altro giorno che Reinders non può giocare a due con Fofanà, e adesso lo ripropone. Allora, delle due luna, o non è vero, oppure ritiene che Fofanà possa fare tutto il lavoro di contenimento rispetto anche a quelle mezze posizioni che spesso gli attaccanti dell'Inter occupano. Non so se avete visto con i Manchester City quante volte, ad esempio, Turam si allargava quando l'Inter ripartiva, cercando di portare fuori posizioni mediane, no? Ecco, quindi il solo Fofanà in mezzo a Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Cialanoglu, Turam, Lautaro, il solo Fofanà. Perché questa è la situazione, perché se tu giochi con Fofanà e Reinders tu hai un uomo in meno in fase difensiva. Reinders non sa fare la fase difensiva. Non lo scopriamo oggi, l'abbiamo scoperto un anno fa al 5-1 del derby di andata. Quindi a me sembra veramente, al di là di quello che poi è il discorso che faremo adesso sui quattro attaccanti, dove qualcosa di... una intuizione potrebbe essere positiva. Il discorso del centrocampo, dove si giocherà ovviamente così tanto quanto sugli esterni la partita, mi sembra sinceramente una mezza follia. Ma anche qui poi torniamo al solito discorso. Al discorso che ci vede ai noi, dal lato della ragione, dicendo che come lo giri e come lo volti il centrocampo del Milan non è costruibile per fare qualcosa di positivo. Ora qualcuno dirà, sarebbe stato meglio fare magari un 4-3-3, quindi Reinders, Loftus e Fofanà, vertice basso, con tutti i problemi del caso. Probabilmente sì, se non altro avrebbe avuto, come dire, una... magari giocando col 3 e giocando con le due punte, con tre centrocampisti e due punte, avresti potuto, se non altro, provare a fare quello di cui vi parlerò adesso per le due punte e a centrocampo andare a parità numerica. Ma a me sembra davvero che ci sia una confusione enorme e se questa sarà davvero la formazione di stasera, io prevedo che a metà campo soffriremo tantissimo. Anche perché abbiamo visto come a Manchester, ad esempio, l'Inter è spesso riuscito a recuperare il pallone con un'aggressività e un pressing organizzato a centrocampo e io su Fofanà e Reinders, in quella zona, pressati a dover difendere da soli. E' chiaro che poi il 4-4-2 è, diciamo, storicamente la formazione più semplice che puoi fare. Però la puoi fare se hai due centrocampisti esterni, non se hai due attaccanti, perché se tu esterni hai Pulisic e Leao, il tuo non è un 4-4-2, è un 4-2-4. Perché? Perché se tu chiedi a Leao e a Pulisic di fare 4-4-2 contro una formazione che molto probabilmente ti aspetterà, perché l'Inter, insomma, è una squadra abilissima nelle ripartenze, alla quale non interessa nemmeno tenere più di tanto il pallone, mentre noi giochiamo con possesso e dominio, ok? In questa situazione tu hai due attaccanti sugli esterni. E il rischio qual è? Beh, il rischio è che tu lasci di fatto Teo Hernandez da una parte ed Emerson dall'altra completamente in balia dei quinti di centrocampo dell'Inter, perché poi Fofanà non riesce ancora a legarsi sul lato destro per andare in copertura. Reinders non capisco come possa coprire e aiutare Leao e Teo da quella parte e quindi siamo in questa situazione. Poi il discorso delle due punte è un discorso che può anche avere una ragione, nel senso che abbiamo visto un Ebram molto pimpante, molto voglioso anche, Morata sappiamo bene che gioca meglio con un'altra punta vicino. Abbiamo in panchina due giocatori che giocano meglio da seconda punta come Okafor e Jovic. In questo senso, giocando contro una squadra che difende con tre centrali, tu potresti togliere dei punti di riferimento alle marcature del loro centrale e obbligare sempre uno degli altri due a stare attenti all'attaccante oppure addirittura portargli via un centrocampista, credo che questa sia un po' l'idea di Fonsecano, quindi portargli via in marcatura, ad esempio costringendoci all'anogolo, rimanere vertice basso e avanzare meno, per tenere d'occhio uno dei due attaccanti che poi tra l'altro potrebbero, attraverso la loro innegabile grinta e stamina, potrebbero anche coordinare il primo pressing sui centrali difensivi dell'Inter, cercando di ostruire linee di passaggio almeno fino alla metà campo, dove da lì indietro noi siamo un disastro, perché ripeto, Fofanai e Reinders, a meno che non tirino fuori la partita della vita, ed è quello che io mi auguro, sono sinceramente, secondo me, una coppia veramente, dove Fonseca aveva ragione, Reinders non può giocare lì e poi ce lo ripropone stasera. Vabbè, comunque, vediamo. Il problema sarà sugli esterni, perché o noi riusciamo davvero a ripartire velocemente quando l'Inter viene avanti, pur sapendo che l'Inter è una squadra che difende molto bene e che quindi bisogna davvero fare le cose tecnicamente ad alto livello e, in questo senso, diciamo, il solo Reinders può darmi la sensazione di un giocatore capace di far ripartire in qualche modo l'azione, oppure noi rischiamo innanzitutto di esaurire Pulisic, ad esempio sulla destra, in una corsa continua sul Di Marco di turno o sul Carlos Augusto di turno, costringendolo a fare un lavoro difensivo che poi lo svuota dal punto di vista offensivo. E dall'altra parte, Leao, è chiaro che poi anche loro devono stare attenti ai nostri esterni, però, dato che noi abbiamo sempre fatto fatica a prendere i loro quinti, sempre, da sei partite di fila abbiamo fatto fatica a prendere i loro quinti, pur cercando raddoppi, cercando preventive e tutto quanto, abbiamo sempre fatto fatica, non vedo come Pulisic e Leao possono aiutare Emerson e Teo a coprire quegli spazi con, oltretutto, un centrocampo formato da un Fofananco racerbo e da un Reinders che in fase difensiva è un disastro. Quindi non lo so, io alzo le mani, mi rimetto all'eventuale sapienza di Fonseca e, se questa sarà davvero la formazione, ripeto, di buono, io ci vedo soltanto la doppia punta che può essere un'idea per cercare di rallentare la loro uscita e costringerli a una maggiore attenzione rispetto al riferimento centrale che avrebbe, diciamo, consentito di fare vita facile ai loro difensori, come abbiamo visto in tutte le ultime volte. Non so come andrà a finire. Sinceramente, ripeto, ho bisogno di trovare qualcosa di positivo per arrivare alla parità di questa sera. Faccio fatica a vederlo in questo momento per tante ragioni, per ragioni di testa, per ragioni di situazione, di ambiente, eccetera, di un allenatore che sembra addirittura già condannato a prescindere da quello che sarà il risultato di questa sera. Però, ecco, come diceva Collovati, se non c'è una scossa, cioè se una partita come quella di questa sera, dove noi arriviamo da sfavoriti, dove noi arriviamo a pezzettini, dove ci si raccoglie col cucchiaio, dove l'Inter invece è un treno che va, se neanche questa sera tiriamo fuori l'orgoglio, la prestazione, la voglia del sacrificio per i compagni, la voglia di aiutarsi, la voglia di far vedere che non siamo quell'ammasso di giocatori, ma siamo una squadra, eh ragazzi, la stagione finisce stasera, se non tiriamo fuori stasera queste cose. Quindi io mi auguro davvero che per la professionalità, la serietà, la voglia di non fare brutta figura, la voglia di non segnare un'altra fase, un altro derby perso, eccetera, eccetera. Per noi anche, per i tifosi, insomma, per tutti quelli che seguono il Milan, per tutti quelli che sono qui, sempre, dietro alla squadra, a cercare di supportarla, ecco, io spero che lo facciano per queste ragioni, insomma. Spero che questa sera il cuore venga gettato oltre l'ostacolo, che ci sia voglia di fare, che ci sia anche una lettura giusta da parte del nostro allenatore, è in fin dei conti l'ultimissima possibilità per evitare un destino già segnato e quindi speriamo, ecco, che davvero tutte queste piccole cose messe insieme possano fare una grande cosa, cioè una vittoria del Milan, un risultato importante questa sera che darebbe una dimensione diversa, forse non salva la stagione, forse non ci fa diventare campioni d'Italia, sicuramente, ma almeno interrompe i derby persi e dà un altro slancio per le prossime partite. Forza Milan e ci vediamo questa sera per seguire insieme questo derby.